È una fase in cui c'è un disperato bisogno di verità, c'è un disperato bisogno di solidità, c'è un disperato bisogno di cultura, c'è un disperato bisogno di educazione, c'è un disperato bisogno di libertà nel senso più ampio del termine. Davvero, guardate, noi blocchiamo l'artificial intelligence per un decreto del garante della privacy e non ci rendiamo conto che il mondo sta discutendo della prossima generazione di intelligenza artificiale, cioè c'è un mondo alle porte che è pazzesco. In questo mondo io penso che il ruolo della libera informazione sia fantastico, noi saremo chiaramente schierati sulla linea dell'identità riformista, però questo nostro schieramento, il fatto che ci sia una chiara direzione, non significa che non sarà un luogo nel quale sarà bello discutere. Se possibile, con i toni non da ultra. Sogno un luogo, una palestra nella quale ciascuno possa sentirsi a casa nella sua libertà. Se l'avremo fatto con il sorriso, come sono convinto che lo faremo, ci saremo anche divertiti.